Il fattorino dei telegrammi insiste, me la faccia vedere un attimo, se non la prego, ma la donna di servizio sembra irremovibile, la signora si è appena alzata e non può essere distrutta. Una porta si apre e nell'ingresso compare la signora Magnani. Il fattorino arrossisce, balbetta, Anna prende il pacco dei telegrammi e porge la mano al fattorino che vorrebbe chiamarla Nannarella, ma non osa, trovandosi di fronte a una signora in casa sua, nel suo privato, mentre Nannarella appartiene a tutti. Signora, lei ieri sera ci ha fatto piangere tutti, mi madre la saluta e tanto le manda un bacio che appunto aveva appena visto il film, la ciancosa. Il fattorino apre la grande borsa dei telegrammi e le porge una rosa un po' appassita. Anche se non è tatuata, la gradisce lo stesso, dice e ride, Anna ride con lui, fra i tanti fiori che ha ricevuto questa mattina quella misera rosa è il più gradito. Grazie.